Il Centro Studi Pesaro è un centro di preparazione scolastica. La mattina svolgiamo lezione con studenti di secondaria di primo e secondo grado. Sono piccoli gruppi, questo ci permette quindi di seguirli più attentamente a seconda delle esigenze dei singoli. Il pomeriggio invece ci dedichiamo alla didattica degli studenti lavoratori di diversa età e lì abbiamo una didattica invece uno ad uno, quindi una didattica più mirata professore e studente. Oltre alla didattica frontale abbiamo altre tipologie di didattica, la didattica online quindi con le piattaforme più utilizzate ci colleghiamo con i nostri studenti, già da anni ormai seguiamo studenti anche non di Pesaro ma di tutta Italia, oppure se una persona non riesce per motivi lavorativi o personali possiamo usare la modalità sincrona, quindi gli vengono mandate delle lezioni registrate da noi insegnanti con degli esercizi che poi correggeremo in remoto. Il nostro centro offre altri servizi insieme alla didattica quindi a lezioni frontali o non abbiamo anche come servizi l'aiuto compiti. Normalmente lo studente può essere seguito dai nostri insegnanti tutti i giorni e svolge quindi con noi in presenza i compiti che ha per il giorno dopo per i giorni successivi. Altrimenti abbiamo le classiche ripetizioni, la differenza ovviamente è che i nostri professori che insegnano la mattina offrono questo servizio. Offrendo questo servizio ci permette quindi di avere dei professori che conoscono bene i programmi ministeriali e quindi sanno bene che cosa poi verrà chiesto a scuola. Abbiamo poi la possibilità di fare assistenza universitaria per preparare gli esami o per la correzione di tese e tesine. In più siamo collegati con le più importanti università online, quindi ci si può iscrivere tramite noi a diversi corsi. In più si possono richiedere le certificazioni linguistiche ed informatiche, la certificazione linguistica per gli stranieri, altrimenti per gli insegnanti è possibile fare i corsi per poter accedere alla propria classe di concorso oppure per incrementare nelle graduatorie il proprio punteggio, questo sia per il personale docente che per il personale ATA. Oltre a queste tipologie di servizi inoltre possiamo aiutare per la preparazione dei concorsi sia universitari che pubblici. La nostra principale motivazione che ci spinge a fare questo lavoro è fare in modo che i ragazzi acquistino fiducia, soprattutto perché molti degli studenti che vengono da noi magari hanno avuto delle esperienze difficili a scuola, con i professori o all'interno del gruppo classe. Vogliamo quindi che riprendano fiducia nelle loro possibilità e che capiscano quindi che possono tranquillamente prendere il diploma studiando ma in un ambiente più confortevole. Il piccolo gruppo o il rapporto individuale ci permette quindi di coinvolgere il ragazzo. In più è fondamentale per noi il rapporto con il genitore, diciamo che in questa relazione noi e i genitori siamo i principali poli educativi e quindi è fondamentale avere un rapporto sempre diretto e sincero con loro. Le lezioni del centro studio di Pesaro iniziano il lunedì mattina per poi terminare il venerdì. La particolarità delle nostre lezioni che hanno una data d'inizio che è quella delle 9 di mattina e hanno una durata di 45 minuti. Iniziano alle 9 perché abbiamo diversi studenti che provengono sia fuori dalla provincia e anche da altre città nella regione delle Marche e quindi la data d'inizio delle 9 di mattina è dovuta al fatto che questi studenti che provengono da luoghi anche più lontani rispetto a Pesaro possano raggiungere il centro studi ad un orario conguro rispetto a quello che è l'inizio delle lezioni. Una particolarità delle lezioni del centro studio di Pesaro è che queste hanno una durata di 45 minuti e questa scelta del centro studio di Pesaro è stata pensata appositamente perché la soglia di attenzione e di concentrazione degli studenti come risaputo si aggira intorno ai 45 minuti quindi onde evitare di caricare lo studente di informazioni che possano andare oltre la durata dei 45 minuti si è preferito concentrare la lezione all'interno di questa fascia oraria. Oltre ad avere una lezione tradizionale che può consistere nella spiegazione dell'argomento il centro studio di Pesaro offre anche agli studenti degli strumenti funzionali all'apprendimento quali ad esempio degli schemi o delle mappe concettuali. Ovviamente lo studente può manifestare la sua preferenza quale strumento preferisce che gli venga formato l'argomento della lezione e l'insegnante sarà ben disposto ad accettare la sua preferenza e a approntare la lezione in base al metodo prescelto dallo studente. Questo perché l'obiettivo del centro studio di Pesaro è che lo studente si trovi in un ambiente in cui possa manifestare liberamente le proprie preferenze e propri desideri riguardo al metodo di apprendimento in modo che riesca a fine lezione ad apprendere al meglio quanto spiegato. Inoltre gli schemi e le mappe concettuali sono utili sia come strumenti per ripassare in vista di un esame finale o di una verifica ma anche per far sì che venga alleggerito il carico di studio dello studente durante l'anno. Una particolarità dell'offerta formativa presentata dal centro studio di Pesaro è l'assenza di verifiche scritte e interrogazioni orali. Questa scelta è stata fatta proprio per evitare che lo studente si senta in una condizione di ansia oppure si sente in una condizione di disagio nel doversi presentare la mattina a scuola per poi affrontare le interrogazioni e le verifiche e quindi si è deciso proprio in vista del mantenimento di un ambiente confortevole e di armonia sia tra studenti che tra compagni evitare la presentazione di verifiche e interrogazioni. Potete trovarci in via Montello 4 siamo a due passi dal centro storico e a due passi dalla stazione dei treni e delle corriere quindi ci si raggiunge facilmente con i mezzi pubblici ma anche con i mezzi privati perché siamo vicinissimi sia a piazzale Carducci che al parcheggio del San Decenzio. Potete trovare tutte le nostre informazioni nel nostro sito e nei nostri canali social Facebook ed Instagram. Le nostre lezioni cominceranno il 16 ottobre quindi avete ancora tempo per chiamarci e per ricevere le informazioni che desiderate. Vi aspettiamo!